Musica Nello speciale di oggi è il nostro gradito ospite l'onorevole Enzo Marinello, esponente del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Benvenuto. Grazie. È stato un anno denso di iniziative in Assemblea, un anno anche abbastanza tribolato. Siamo giunti già al terzo rimpasto in pochi mesi per la giunta Lombardo. Qual è la posizione sua personale e quella del partito? Innanzitutto devo dire che il governo è stato eletto direttamente dai cittadini, il governo regionale. Da ben due anni ci sono stati tre rimpasti, bene a detto, questioni di natura politica all'interno del centro-destra. Il centro-destra di fatto è esploso, addirittura il governatore nell'ultima seduta d'aula è venuto a dire che la sua maggioranza si è dissolta e addirittura ha tagliato il cordone ombelicale con la maggioranza che era uscita dalle urna. Questo è un fatto che è politicamente significativo. In questa fase lui ha avviato un terzo governo, inserendo ulteriori tecnici all'interno della squadra di governo. Noi come Partito Democratico ci siamo confrontati all'interno dell'organismo proprio del Partito Democratico, in particolare dell'Assemblea regionale del partito, ed è uscita fuori l'approvazione della relazione del segretario Lupo. In particolare noi ci confronteremo in Parlamento per ciò che riguarda alcune riforme che sono necessarie a questa nostra terra, a questa nostra isola in particolare, in particolare la questione della formazione professionale, quindi la questione delle autorità d'ambito che riguardano i rifiuti, ma anche la problematica che riguarda l'acqua pubblica. Questi sono tre punti fondamentali che come Partito Democratico formuleremo alcune proposte in Assemblea regionale siciliana e ci confronteremo con il governo. È un governo di cui noi restiamo una forza di opposizione, ma un'opposizione costruttiva e propositiva rispetto a queste cose di cui la Sicilia ha bisogno. In questi due anni noi come Parlamento e come parlamentari del Partito Democratico abbiamo concorso a fare alcune riforme di cui questa terra aveva bisogno, in particolare le norme sulla sanità, sul riordino del sistema sanitario. Noi come sappiamo eravamo fuori da quelle che erano le direttive imposte, dal cosiddetto piano di rientro, ma ancora prima del piano di rientro che è una competenza del governo della regione, perché bisogna distinguere quella che è l'attività del governo rispetto a quella che è l'attività del Parlamento, abbiamo anche fatto un piano di riordino, perché non si poteva così continuare così come era organizzata la sanità siciliana, quindi bisognava riformarla, bisognava metterci mano e abbiamo con grande senso di responsabilità cercato di apportare quelle innovazioni necessarie alla sanità, di cui la sanità siciliana aveva bisogno. Cioè una sanità che guarda anche alla qualità delle professioni e anche alla qualità e ottimizzazione dei servizi, tenendo conto chiaramente della spesa pubblica. Naturalmente i cittadini in ambito di sanità vogliono garantire i propri diritti, l'assistenza. Ma non solo che vogliono garantire i propri diritti, hanno ragione a chiedere questo, ma chiedono che ci sia una migliore sanità, una sanità che non ci debbano essere più i cosiddetti viaggi della speranza di andare nel nord del paese. Noi auspichiamo che avendo approvato la riorganizzazione del sistema sanitario, anche il governo faccia la sua parte con il riordino, appunto tenendo conto che bisogna contenere la spesa. Questa nostra regione, ahimè, ci sono purtroppo troppe strutture che si sovrappongono all'interno dello stesso territorio ed è necessario che invece ci sia una maggiore armonizzazione e una migliore qualità dei servizi nei vari settori della medicina, per quanto riguarda la medicina, per quanto riguarda la chirurgia, la riabilitazione, ma non solo la questione che riguarda il pronto intervento, il pronto soccorso, ma bisogna intervenire in maniera strutturale e radicale. Auspichiamo che questo piano di rientro si dia pieno attrazione, anche perché oggi c'è anche il riordino della sanità siciliana. Chiaramente le responsabilità di chi deve attuare queste riforme sono del governo regionale. Noi come Partito Democratico e come parlamentari del Partito Democratico abbiamo fatto sì di apportare attraverso lo strumento degli emendamenti nell'ambito della riforma del sistema sanitario regionale, abbiamo apportato quegli emendamenti che noi reputavamo necessari ed importanti per dare risposte ai cittadini. Sul piano della qualità, perché molto conta la qualità, la qualità professionale delle strutture, perché dobbiamo evitare di andare fuori dalla nostra regione per curarci quando abbiamo un problema di salute. In questa nostra terra abbiamo grandi intelligenze, grandi professionalità, spesso è mancata l'organizzazione. Oggi l'organizzazione auspichiamo che si sta mettendo in moto e si mette in moto nel miglior modo possibile. Ci sono due settori di cui si parla spesso, soprattutto nell'ultimo anno, due settori di cui si dice che siano abbastanza in crisi, quello della pesca e quello dell'agricoltura. È stato un anno importante anche per questi due settori. Quali sono le iniziative che sono state fatte e quale è in cantiere nei mesi a venire? Anche lì la regione siciliana ha alcune competenze, altre competenze sono dello Stato. Per ciò che riguarda il settore della pesca in particolare, finalmente dopo ben 11 anni, nella precedente finanziaria regionale, quella del 2009, quindi quella del corrente anno, perché l'altra si dovrà fare il prossimo anno, perché abbiamo votato di recente l'esercizio provvisorio, abbiamo fatto sì che le risorse che erano andate in economia, quindi non sono state spese nel settore della pesca, in particolare quelle derivanti dalle misure di aiuto all'occupazione, la cosiddetta legge 33 del 1998 dell'allora governo capo di casa, finalmente siamo riusciti a rimpinguare circa 33 milioni di euro che saranno impegnati e spesi a partire dal 2010, purtroppo per ragioni tecnico-procedurali, occorrevano alcuni pareri da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativo, il regolamento oggi c'è, a breve l'assessorato emanerà entro l'anno, quindi probabilmente tra domani o i primi dell'anno prossimo dovrebbe varare l'avviso pubblico per poter accedere a queste misure, ed è una piccola boccata d'ossigeno in favore di un settore economico, qual è quello della pesca, che è un settore di cui la nostra isola, per la nostra isola rappresenta un settore strategicamente importante, circa il 33% del prodotto interno lordo dell'interno.